Ah, bentornati cari amici, sono molto lieto di potervi rivedere, lo so, molti di voi si stavano chiedendo che fine abbia fatto in questo periodo del tempo, ma sapete com'è la vita della gente teatrale, quanto di più difficile, un giorno è in erato scuderli a un certo momento e il giorno dopo ecco che questa non conta più nulla, i guadagni fluttuano, bisogna tenere conto di un sacco di input e output, ho dovuto fare delle scelte difficili per poter salvaguardare i miei guadagni e insomma ho deciso a un certo punto di prendermi una pausa di riposo forzato, ma non crediate che io alla fine sia rimasto con le mani in mano, ho finalmente capito qual è il modo migliore per riavacciare sul mondo dello spettacolo, ebbene sì perché in fondo il mondo dello spettacolo è il mondo che amo, qui ho le mie radici, non crediate quindi di aver perso tempo a aspettarmi perché adesso vi permetterò grazie a questa grandiosa piattaforma che si chiama YouTube, che ha visto nascere questo mio inconmensurabile successo, mi permetterà di riavvicinarmi a voi e voi potrete avvicinarvi a me, perché non solo vi consentirò di vedere ancora come lavoro nella mia agenzia permettendo di capire tutti i maggiori segreti per un successo immediato, ma vi permetterò anche di partecipare a un contest che io stesso ho ideato e che ho pensato di battezzare The Valcides Wars. In cosa consiste? Beh è molto semplice, questo contest che sarà diviso in due parti è fatto così, le ragazze più attraenti di età compresa tra i 18 e i 30 dovranno farsi delle foto con addosso al massimo la loro bianchieria più intima e seducente e in atteggiamenti chiaramente espliciti e poi pubblicarle alla pagina Facebook The Valcides Wars che sarà aperta all'inizio della settimana prossima. Qui entra in gioco il pubblico maschile che dovrà commentare con commenti di natura sessualmente esplicita queste fotografie e mettere un maggior numero di mi piace possibile. Le tre vincitrici di questa votazione, ossia quelle che avranno i commenti più creativi e il maggior numero di mi piace, saranno ufficialmente le vincitrici e avranno l'onore di partecipare a una serie di video in cui poter dar sfogo alla loro creatività licenziosa per dare ulteriore sollazzo al pubblico maschile che ne autate. Lo so, lo so, magari molti di voi penseranno che il nome di questo concorso e lo scopo per cui è stato creato non è dei più gentili e non è dei più giusti, ma sapete che cosa vi dico? Almeno io metto in chiaro le cose da subito. Grazie a tutti.